Allora, Paolo, quello che leggeremo ha a che fare con Israele e poi lo divide in due parti, ma i fratelli di cui lui sta parlando, dove dice è per loro che siamo salvati, è Israele. Perché Paolo fa una distinzione tra la giustizia delle opere della legge, dove Israele ancora oggi è legato, e la giustizia della fede. Sono due cose differenti. Ora dice, mi sentite? O è basso il microfono? Ok. Fratelli, il desiderio del mio cuore, il desiderio del mio cuore è la preghiera a Dio per loro e che siano salvati. Io rendo loro testimonianze, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché? Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Guardate, due passi, lo rileggo, al versetto 3. Attenti perché è importante questo. Questo riguarda sia noi che loro. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. C'è una giustizia e c'è una propria giustizia. Ora dobbiamo capire e dobbiamo vedere che cos'è la giustizia di Dio, cos'è la nostra giustizia. E qua dice che ignorandola non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, in parole povere, per noi la giustizia di Dio si chiama Gesù. In Gesù c'è tutto, c'è tutta la giustizia di Dio. Veronica, Dio ti benedica. In Gesù c'è tutta la giustizia di Dio. Poiché Cristo è il termine della legge. Per chi? Per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè così descrive la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose viverà per esse. L'uomo che fa quelle cose viverà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice non dire in cuor tuo chi stellerà in cielo. Questo è farne scendere Cristo. Chi scenderà nell'abisso, questo è farne risalire Cristo dei morti. Cosa dice invece? La parola è vicino. È cambiato tutto, è cambiato tutto. La parola è vicino a te. Nella tua bocca e nel tuo cuore. La parola è vicino a te. Non è più un precetto. La parola è vicino a te. Dove dice la parola nella tua bocca? Nel tuo cuore è vicino a te. Questa è la parola della fede che noi non siamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere giustizia. Lo vedete? Con la bocca si fa confessione per essere salvati. Non c'entra niente con la legge di Mosè. Questa è la giustizia che deriva dalla fede. Con la bocca si crede. Con il cuore si crede per ottenere giustizia. Con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco essendo egli lo stesso Signore di tutti ricco verso tutti quelli che lo invocano e la giustizia di Dio ha a che fare con il cercare il Signore. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sembra che la giustizia che viene dalla fede sposta l'attenzione dagli altri su di lui. Quando pensa alla giustizia che viene dalla fede mi immagino quando Gesù parla della vedova con il giudice ingiusto. Com'è che la vedova ha ottenuto giustizia? E' per caso andato allo suo avversario? Chi è che la conosce questa parabola? L'ho già predicata. E' per caso andato allo suo avversario la vedova? O ha fissato gli occhi sul giudice? Attenti è importante. In modo che il giudice spostasse la sua attenzione sul problema della legge invece di essere distratto di spostando l'attenzione si è progettato anche solo per fare la ragazza. la vedova voleva giustizia sul suo avversario e lei non è mai andata dal suo avversario lei ha posizionato tutto il suo sguardo la sua attenzione o meglio lei è stata perseverante perseverante nel chiedere giustizia al giudice non è mai andata anche quando il giudice era avverso lo suo avversario attenti a chi adesso entreremo attenti entreremo adesso nella parola con il cuore si crede per ottenere giustizia con la bocca si fa confessione per essere salvati Signore fa che scenda fuoco dal cielo avete mai sentito questa parola? Giovanni e Giacomo che li bruci tutti e Gesù dice che li sgridò non lo capite che io sono andato a salvare ciò che era perduto? perché Gesù è legato alla giustizia di Dio vi faccio notare una cosa siete pronti? è alla portata di tutti quanti in Matteo 6 al versetto 1 Gesù dice qualcosa di incredibile che dovremmo conoscere tutti ma poi vi dico perché sto parlando in questa maniera Matteo 6 dice guardatevi guardatevi dal praticare praticare cioè quindi è un'azione guardatevi dal praticare cioè fai attenzione la vostra giustizia davanti agli uomini guardatelo bene perché io devo voglio interagire con voi questa sera guardatevi dal praticare la vostra giustizia non è una vendetta questa eh la vostra giustizia Abramo credette a Dio e ciò gli fu messi in conto come gli è stata messi in conto perché credette si è fidato di quello che Dio gli ha detto Genesi 18 si è fidato e quando Dio ha parlato non c'era niente davanti a lui niente solo promesse più tardi che lui stesso non ha visto si è adempiuto ogni cosa e noi oggi rientriamo in quella promessa migliaia di secoli dopo perché Dio mantiene sempre la sua parola quando siamo nella sua giustizia guarda per essere osservati da loro altrimenti non ne avrete premio presso il padre vostro che nei cieli parliamo di giustizia no devi camminare con me ecco vedi cosa vuol dire che dobbiamo camminare insieme una sola voce devi ascoltare qui dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro ecco la caduta di chi fa giustizia da sé per essere osservati la vedova dove stava e chiedeva giustizia davanti al giudice non l'ha fatto in modo che tutti la vedessero ora io voglio paragonarla come se non fosse una parabola dove sposti l'attenzione per cui tu possa compiere la tua giustizia avete mai visto quanta gente ho visto un video su facebook lo dico perché è su facebook dove un uomo in America ha fatto del bene a un cameriere dice oggi Dio ti vuole benedire con tutte le telecamere gli dava i soldi della mancia no? dice gente quello piangeva tutto sponsorizzato Dio ti vuole benedire oggi perché lo stai pubblicando? vi prego ascoltatemi perché lo stai pubblicando? perché tutto il mondo di facebook deve vedere quello che tu stai facendo a quel ragazzo? bisognoso comunque sia ma lo stai facendo pubblicamente perché gli altri devono sapere quello che tu stai facendo? perché stai cercando di stabilire la tua giustizia non quella di Dio diciamo? quindi e qui abbiamo a che fare o con la sua o con la nostra quando cerchiamo la nostra giustizia è evidente che mostriamo quello che abbiamo altrimenti dice non ne avrete premio altrimenti non ne avrete premio seconda opzione della giustizia c'è qualcosa che viene dall'alto c'è un favore sulla tua vita un favore chi è che non vuole favore da parte di Dio? io ne voglio tantissimi favori non di macchine ho bisogno che Dio accampi il suo sguardo sulla mia vita che possa consumare i miei giorni nella gioia il premio che io voglio è che possa consumare i miei giorni nella gioia nella pace perché non c'è valore al di fuori di queste altrimenti non avrete premio presso il padre vostro che è nei cieli vai avanti due quando dunque fai l'emosina ci sta insegnando com'è la giustizia Gesù sta insegnando il modo come compiere la giustizia di Dio come piacere a Dio quando ci muoviamo come praticare nel modo in cui Dio ci mette in condizione di praticarla perché la giustizia Dio ti dice il modo in cui tu devi relazionarti con lui la giustizia di Dio è il modo in cui Dio dice così io voglio che tu ti relazioni con me io voglio che tu fai queste cose perché tu mi possa con piacere non fare suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoche nelle strade per essere onorati dagli uomini perché lo fanno guardate la giustizia la propria giustizia quando uno fa la sua propria giustizia qual è perché lo fanno pubblicamente perché hanno bisogno dell'onore degli uomini hanno bisogno hanno bisogno che gli altri li vedano hanno bisogno non possono fare non riescono a fare niente se altri non li vedono come quelle persone hanno bisogno continuamente di essere stimolati 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 continuamente non dipendono mai da Dio una persona che cerca il Signore non ha bisogno che gli altri lo guardino non ha bisogno dell'attenzione di nessuno perché la sua attenzione ce l'ha davanti a Dio e Dio lo guarda non ha bisogno di nessuno qualunque cosa succede intorno alla sua vita lui guarda solamente lui ecco perché dice spunterà la luce spunterà la tua luce vuol dire che è tenebroso che ti stai muovendo tu non sai quello che ti sta capitando in quel momento però chi fa spuntare la luce della giustizia è Dio guardate io vi dico in verità di nuovo che questo è il premio che ne hanno qual è il premio di questa gente l'onore degli uomini che oggi sei a mille domani sei zero non conti più è solo per un tempo ma è il premio che Dio ti dà perché abbiamo a che fare che l'uomo l'onore degli uomini è temporaneo l'onore di Dio è per sempre ci siamo no questo è evidente no tre ma quando tu fai le lemosi no ecco torna all'uno al due scusa due questo è la giustizia dell'uomo guardatela vi prego questa è la giustizia dell'uomo quindi ignora di piacere a Dio perché lui lo faccia la mente tutti quanti ma a te e a me dice questa è la parola quando dunque tre 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 quando dunque fai le lemosina non sappia la tua sinistra quel che fa la destra non dice la sinistra degli altri la tua sinistra non sappia la tua sinistra quel che fa la destra non sappia la tua sinistra quel che fa la destra e parliamo dello stesso corpo vai per favore affinché la tua lemosina sia fatta in segreto è il padre tuo che vede nel segreto ecco dove è l'unico modo in cui veniamo visti non ti preoccupare non ti preoccupare stai in pace è l'unico modo dove veniamo visti ma perché scusa perché Dio ti sta facendo vedere Gesù ci sta insegnando il modo in cui Dio ci vede e quando veniamo notati da Dio mi sentite no perché dobbiamo capire questa sera io voglio essere notato da Dio non ho bisogno non cerco che gli altri mi vedano quello che mi interessa è che Dio veda me ora io per cercare l'attenzione di Dio perché abbiamo tutti chi è che non vuole l'attenzione dagli altri oh mamma mia abbiamo bisogno molte volte il mio timore il mio terrore a volte e chi mi dimentichi di un compleanno che mi dimentichi di un battesimo che mi dimentichi di un battesimo di presentazione che mi dimentichi di una cerimonia di una perché so quello che posso causare tremendo perché a me sono stato ferito quindi per me a volte dico non vorrei fare più compleanno non mi interessa più niente chi vuole festeggiare l'altra parte però poi c'è qualcosa che mi dice no Francesco no scendiamo prendo un compromesso di amore di affetto perché ho imparato a cercare la sua giustizia non dipendo dall'attenzione di nessuno di nessuno non ho bisogno che nessuno sappia di me non mi interessa quello che gli altri possono pensare di me perché non cerco nessuna attenzione da quando conosco la parola ecco perché non dipendo dagli altri ora guardate dice che affinché la tua lemosina che cosa vuol dire lemosina fare del bene a qualcuno sia fatta in segreto in segreto non lo sa nessuno non lo sa nessuno lo sappiamo io e Dio certo se poi uno mi vede pazienza ma Dio sa nel mio cuore perché notate l'intenzione degli ipocriti è quello di farlo sapere a tutti cioè loro hanno bisogno di farlo sapere perché il loro scopo è l'onore degli uomini un figlio di Dio invece perché dipende dal padre lo fa solo per piacere al padre non metterà mai in discussione nessuno non metterà mai al centro nessuno ma se io ho bisogno della mano di Dio sulla mia vita devo fare le cose in segreto non vado reclamando la mia posizione davanti agli altri per fare stare male agli altri perché è un movimento negativo dice il signore vuoi giustizia? bene cerca nel modo in cui io te la sto insegnando lo posso garantire che è talmente semplice ma è così difficile perché abbiamo a che fare con le nostre ferite abbiamo a che fare con le nostre delusioni con gli abbandoni abbiamo a che fare con le cose che ha distrutto la nostra vita e abbiamo bisogno che gli altri ci vedano per essere gratificati per essere ristorati ed è quello il premio perché devi sapere che quello finirà un giorno quello finirà un giorno Gesù ha detto io non sono solo lo sapete che Gesù ha detto così io non sono solo sono io e il Padre che mi ha mandato io non sono solo mi sentite? Gesù questo lo diceva Gesù ora noi siamo soli? pensateci perché non siamo soli? e perché cerchi gli altri? perché cerchi l'attenzione degli altri si è giudicato del suo spirito nessuno mi ha chiamato oggi attenti ai microfoni state con me nessuno mi ha chiamato oggi che bella chiesa dove è la tua giustizia? ho detto a qualcuno più di qualche volta perché ora capisco quando Paolo Pietro diceva non mi stanco mai di ripetere sempre le stesse cose e lo devo fare perché devo capire la giustizia di Dio quando in me c'è la giustizia dell'uomo è evidente e comincia a dire ah se fosse un bravo pastore saprebbe che una pecora manca dalla chiesa stai soffrendo? stai soffrendo? meno male prega è vero? oppure dice vai e inizi a mettere le puntine che tutti devono sapere che il pastore si è dimenticato di me questa non è la giustizia che viene da Dio questa è la tua giustizia l'ha ignorata la giustizia di Dio perché qua sembra che il Signore stia dicendo quando io lo faccio in segreto voglio che sia Dio a manifestare ogni cosa non io perché Dio è compassione non mette mai in difficoltà situazioni che possono creare divisioni all'interno di un corpo perché Dio è misericordia lui è gloria e la gloria unisce mai divide guardate è il padre tuo che vede nel segreto che cosa ha visto? hai per caso parlato? ha visto ci siamo? ha visto noi pensiamo che non ci vede perché? perché siamo influenzati dal mondo siamo influenzati da quello che vediamo in televisione tutto deve essere appare in scienza non è così in Cristo questa è ti sto presentando te la sto ripresentando ti sono un'infarinatura per chi già conosce di quello che a Dio piace chi non vuole qualcosa da parte del Signore che è contro di lui nella sua vita dice come faccio adesso? come faccio adesso? noi siamo membri gli uni degli altri lo sapete? e voi sapete che non abbiamo bisogno gli uni degli altri qui? non abbiamo bisogno gli uni degli altri addirittura dice che Dio per venirci incontro oltre allo Spirito Santo ha dato anche i doni alla Chiesa perché un fratello e una sorella possono edificare con la potenza del dono la persona che è scoraggiata che è afflitta non per niente lo Spirito Santo si chiama il consolatore e il consolatore è la verità la verità di Dio non la nostra è chiaro no lo Spirito Santo è il consolatore per eccellenza Gesù la prima parola ha detto quando verrà lui il consolatore e il consolatore distribuisce alla Chiesa ciò che può edificarla parole di conoscenza profezia lingue pensate appensano sia a se stesso che al corpo questo lo fa lo Spirito Santo è chiaro no? vai avanti per favore quando pregate ora lì è un movimento quindi lo sto praticando nel segreto ora qui parlo di preghiera quando pregate non siate come gli ipocriti un'altra volta due perché si amano pregare stanno in piedi nelle sinagoge dove stanno? sentite amano pregare? è normale uno si alza prega bello no? guardate agli angoli delle piazze guardate 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 la giustizia dell'uomo dove cade? perché loro lo fanno pubblicamente in piedi nelle sinagoge? con quelle scopo lo fanno? per essere visti non è perché il pastore sta pregando io prendo sempre imputo sempre me per evitare di toccare voi il pastore ha fatto una bellissima preghiera perché lo sta facendo non lo faccio per piacere a voi sicuramente perché io so chi c'è qua dentro e non voglio che la mia preghiera sia migliore degli altri perché io devo piacere a Dio non a voi la mia posizione verso di voi è un esempio e io spero che sia un esempio di fede sempre nella vostra vita anche per i vostri vivi verranno dopo di voi questo dice la Bibbia guardate io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno ci basta che gli uomini facciano di noi con una cosa ma ma che bella persona ma guarda che eloquenza nel parlare ma che spettacolo ricordati che prima poi finirà quell'onore arriverà sempre qualcuno migliore di te sempre arriverà qualcuno migliore di te che fra le cose migliori di te che le dirà migliori sempre ma quando ripendi di Dio è lui che ti alza e ti accende la luce e non c'è nessuno ti può equiparare perché Dio ti dà l'esatta intelligenza per compiere le cose vai avanti per fare avanti è veloce ma tu quando preghi quindi vi ha presentato la giustizia degli uomini e ora quella che vuole Dio ma quando tu preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa fa per caso rumore io parlo di persone che cercano giustizia beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia sei affamato e assetato di giustizia vuoi il favore di Dio sulla tua vita ti ho insegnato in che modo bisogna fare le lemosi ti ho insegnato il modo in cui devi pregare te lo stai dicendo qua perché lo scopo è mi deve vedere solo Dio a me non mi importa quello che pensano gli altri che dicono gli altri non mi interessa lo faccio solo per piacere a Dio ho bisogno che Dio faccia spuntare sulla mia vita la sua luce lo devo fare in segreto e quando lo faccio non menziono mai nessuno mai nessuno non metto mai in evidenza le cose sbagliate degli altri che non sono capaci di fare in confronto alla mia lo faccio in silenzio punto sorella, fratello quello che sto facendo per favore rimanga tra di noi perché voglio piacere a Dio bellissimo così stai schiacciando la tua giustizia per esaltare la sua perché è bello quando dicono tutti quanti ne siamo carne mi sapevo che belle cose che fa quel fratello quella sorella mamma quanti non ho sentiti ma qua non ci sono più sette nel pregare non sai troppe parole come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi guardate vedete giustizie i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole guardate la giustizia loro convinti che più ne dicono più sono esauditi non fate dunque come loro poiché il padre sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate ma lo sono imparato a memoria il padre sa le cose di cui avete bisogno prima che quindi cos'è che vuole vedere il Signore che tu ti apparti in segreto che non fai suonare la tromba che non dici niente a nessuno tu e Dio e non mi faccio sentire ora grido così tutti mi sentono e sto pregando quella è ipocrisia e gli ipocriti non piacciono a Dio guardate una cosa prima di andare avanti Matteo 5 scusate non voglio andare oltre a lavorare Matteo 5 versetto 17 non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento poiché in verità vi dico che affinché finché non siamo finché non siano passati i cieli e la terra neppure un iota o una precedente legge passerà senza che tutto sia dempiuto chi dunque avrà violato uno di questi miei minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli chi li avrà messi in poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei i nemici di Cristo ve li presento è uno spirito non le persone lo spirito scribi e farisei non supera che cosa vi ho mostrato fino adesso che farisei gli scribi cosa facevano le lemosina pubblicamente pregavano pubblicamente perché lo facevano con il solo scopo di essere visti allora non interessa niente Dio perché sono loro Dio stesso loro sono Dio stesso hanno bisogno di essere adorati acclamati glorificati sapete ci sono stati senza dire nome dei programmi televisivi dove delle persone che non erano affermate quindi persone comune hanno partecipato in questi programmi e il mondo per un po' di mesi e qualche anno li hanno glorificati alle stelle sono arrivati in cima passato quello un giorno ho visto un'intervesta di una persona che è andata a prenderli uno a uno chi si vuole suicidare chi non esce più di casa chi si vergogna anche di se stesso hanno perso tutto il mondo passa con la sua ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno avete capito cosa hanno fatto? si vergognano pure di uscire il lavoro che prima da pizzaiolo era bellissimo ora si vergogna di fare la pizza questo è l'onore del mondo infatti dove tu vieni visto da tutti e tu fai tutto per farti vedere da tutti è incredibile fratelli c'è una bella differenza fra quello che noi vogliamo e quello che Dio vuole lascia fare Giovanni affinché siete in più da ogni giustizia il Dio della giustizia il suo nome è Gesù non entrare da affatto nel regno dei cieli è forte non entrare da affatto torna lì per farlo torna a Matteo che devo andare un po' velocino Matteo 6 versetto dove era arrivato 14 perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe il Padre vostro perdona le vostre e perdona anche a voi io questa è la preghiera del Padre nostro ma non volevo focalizzarmi qua questo è il modo in cui Dio ci insegna a pregare perché la preghiera la preghiera del Padre nostro chiamiamola così è una preghiera di giustizia dove è Dio che dà a te è il modo in cui tu devi chiedere a Dio la preghiera che Dio ci ha insegnato è il modo di ricevere da Dio infatti noto in quella preghiera non c'è giudizio non c'è critica nota l'attenzione l'attenzione è la prima su Dio tutto sul Signore poi sui tuoi bisogni e poi sugli altri che relazione hai con gli altri mentre tu mi stai chiedendo la tua benedizione no non ci siamo versetto versetto undici undici facci oggi il nostro pane quotidiano questa è la benedizione che scende dall'alto benedici le mie entrate le mie uscite quello che è più a caro a me però dice un'altra cosa guardate rimetti vai avanti per favore rimettici i nostri notate com'è che è divisa in tre questa preghiera in tre è divisa la terza parte ha a che fare con le relazioni che relazione hai con gli altri rimetti i miei come anche noi li abbiamo rimessi sapete quanta gente ho conosciuto che fa questa preghiera da una vita non ha mai rimesso un debito non sa chi è che sta pregando immaginate le persone che non conoscono Dio e recitano questa preghiera a memoria meglio di noi non sanno chi è il Signore perché adorano altri dei non sanno che Dio li può benedire perché hanno altro pane da mangiare e hanno odio ancora di sprezzo verso gli altri perché sono dei mormoratori giudicano critiche e fanno cose maligne eppure pregano il Padre che hanno stato una vita ecco perché Dio ci mette a conoscenza la verità perché noi sappiamo il modo giusto per relazionarci con Dio con noi e con gli uomini questa è la giustizia di Dio vai a per favore al versetto 16 questa è la terza giustizia quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti da quanto non mangio sorella da quanto non mangio il mio digiuno è per Dio solo per Dio sorella no sto morendo di fame sono cose vere Dio sa quanto lo amo perché lui dice alla sorella scusa ci siamo io faccio giusto una per strammatizzare perché si si sfigura una faccia per notate per far vedere ora se uno sta a casa mia mia moglie mi vede che non mangio per un giorno io dico fra non mi cucinare per favore ma siamo io e mia moglie lei capisce hai volo non mi cucinare oggi e se magari mi sento male mi chiedo l'entro non mi vedete perché magari il suo stomaco gira a duemila me sto là dentro e non lo sapete non lo sapete mai perché ho bisogno di lui nella mia vita ho bisogno che Dio muova la mano per qualcosa che è personale però quando lo faccio lo devo fare in modo da piacere a Dio solo quello non posso fare altro un giorno mi ricordo un caro fratello che io amo nel Signore no e lo vedo e quando sono venuto mi ha detto pastore pastore era felice ho lavato tutte le sedie guarda guarda fratello perché mi dice a me gli ho insegnato che la sua posizione non era corretta anche se si è ammazzato perché me lo stai mostrando aveva bisogno di essere gratificato va benissimo ma gli volevo dire non era meglio che ti gratificava Dio che io perché è bello quando facciamo le cose in segreto qualunque cosa tu stia passando che tu stia vivendo ti sto mostrando quello che c'è da duemila anni scritto nella Bibbia qualunque cosa tu stia vivendo che poi dovete pensare una cosa perché sto andando a pregare perché sto digiunando perché sto facendo l'emosina cioè tu sposti l'attenzione dal tuo avversario dei bisogni per cercare lui incredibile quando tu cerchi la giustizia di Dio devi per forza ignorare la tua devi togliere lo sguardo dal tuo nemico che può essere l'economia che può essere una situazione drammatica nel matrimonio una malattia situazioni di contesa di zazzania situazioni dici come faccio ad uscirne ora come faccio ad uscirne ora e Gesù ci insegna il modo di far operare Dio sposti l'attenzione mentre gli ipocriti mettono l'attenzione sugli uomini guardate per fare vedere agli uomini che digiunano io mi immagino sai al tempo sabato col sacco con la cenere i capelli magari pure rasati e la gente poveretto che santo e Gesù invece sapete quando gli passano e sepolcri imbianchiato sepolcri imbiancato e infatti Gesù cosa ha fatto li ha smascherati perché l'ipocrito prima o poi verrà smascherato è meglio che ci mettiamo a posto oggi che domani non c'è che da mettere a posto oggi è l'opportunità per regolare la nostra posizione davanti a Dio io ho bisogno e quando noi dipendiamo dalla sua giustizia credetemi c'è una forza dentro di noi che è impressionante lo desideri così tanto i cebbiati sono affamati e assetati affamati e assetati affamati ora immaginate che discepoli quando Gesù dice la mia carne il mio corpo è carne dovete mangiare scandalo questo parlare è duro perché non avevano inalato la giustizia di Dio per questo se ne sono andati se ne sono andati per questo Gesù si è presentato il mio sangue è vera bevanda il mio carpe è vera carne sono scandalizzati non rientrava nelle loro abitudini non rientrava questo è il premio che ne hanno che cosa si prendono l'onore degli uomini vai ma tu la terza volta e parla a noi il Signore ma tu ma voi quando digiunate un giro il capo cosa vuol dire nessuno si deve accorgere si è bello poi ti metto un rossetto per le donne i maschi ti fai la barba bello col sorriso si ti metti qualcosa e dici questa bene in forma magari ti giugno da una settimana che bello sapendo che aspetti da Dio non sto scherzando questo è una cosa è tremendo questo è tremendo questo ti posso garantire che quando mi sono mosso in queste cose in queste cose ho sempre vinto perché io non potevo fare nulla è nulla che mi vado lamentando a destra e a sinistra non vado a nessuna parte e non me la posso prendere con nessuno perché solo Dio deve muovere cose verso di me solo Dio la perseveranza di pregare nel modo in cui Dio mi ha insegnato la perseveranza di donare come Dio mi ha insegnato la perseveranza di digiunare nel modo in cui Dio mi ha insegnato non lo deve vedere nessuno ora notate certo qualcuno dice però ti ha visto che hai detto qualcosa ricordatevi una cosa che Dio conosce il cuore dell'uomo può essere sai mi avvicina Mimma Mimma tieni sto maglione però l'ho fatto con l'intenzione che nessuno mi doveva vedere poi mi ha visto Mare Glorio Salvatore Anna mi hanno visto ma Dio sa nel mio cuore che io non lo volevo fare mentre Dio conosce Dio le tue intenzioni sa perché lo stai facendo lui già conosce le intenzioni prima che tu lo fai già li conosce ecco perché dobbiamo curare noi stessi davanti a Dio quello che facciamo lo facciamo solo per piacere al Signore ecco che allora ascolterete quello che io predicherò perché finché volete piacere a voi stessi quello che io vi dirò cadrà come là sparirà via sparirà ma quando inizia con piacere Dio ogni parola per te sarà un tesoro ogni parola che esce da questa bocca sarà un tesoro perché cerchi sempre la sua giustizia qualunque cosa succede qualunque cosa succede e quando qualcuno sbaglierà Signore ti prego rialzalo aiutalo dagli la vita Signore e non starà qui per dire ormai è finito sta affondando te l'ho detto sei caduto questo è Satana Satana questo che parla così o nello Spirito Santo ma tu quando digiuni ungi il capo e lavati la faccia finché non appaia agli uomini che tu digiuni ma il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne dà la ricompensa e questa è giustizia che fare con i nostri bisogni anziché andare a colpire l'avversario che sono quello che noi sappiamo quindi l'economia la malattia eccetera eccetera relazioni io potrei anche approfondire ma non posso credetemi ma c'è di tutto qua dentro ogni posizione e area della nostra vita sia personale sia con il Signore che con gli altri è tutto coperto diciamo ma quando facciamo un digiuno come chiesa è vero l'abbiamo fatto come chiesa non l'ho fatto per fare vedere gli altri che digiuniamo non l'ho fatto però lo devo fare come corpo lo devo fare quando io dico facciamo un digiuno santi nel Signore per dire vorrei fare un digiuno di 21 giorni con legumi lo chiamano il digiuno di Daniele evidentemente non mi metto a dire fuori oh fratelli oppure su facebook la mia chiesa digiuna siamo come musulmani allora a posto siamo quindi quando c'è un digiuno di corpo lo sa solo il corpo o magari quando fare un digiuno che lo sapete lo sapranno solamente e non si faranno vedere quello che me lo diranno in seguito lo voglio fare io questo digiuno io sono con te in questo digiuno e il pastore non dirà chi sta digiunando affinché non vengono meno gli altri che non sono capaci di farlo o non hanno ancora la rivelazione del digiuno che è potentissimo davanti a Dio è potentissimo addirittura Gesù diceva c'è una specie di demoni che non è riuscita a cacciare se non con preghiere e digiuni pensa tu pensa tu perché è spirituale la giustizia che vi sto presentando che vi sto rappresentando che vi sto riportando alla memoria è una giustizia spirituale mentre l'ipocrita è una giustizia naturale quindi si serve di quello che ha a disposizione delle sue capacità nello spirito è diverso è diverso e io ho testimonianza su questo non mento ho testimonianza per questo parlo oltre a credere per fede ho testimonianza su questo ci sono eh ci sono quasi da quant'è che sto predicando ah o è giusto Romani Romani 3 per foro 19 dice così fratelli ora sappiamo che tutto quello che la legge dice che quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge affinché ogni bocca sia chiusa e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato la legge la legge cosa ci dà la conoscenza del peccato effettivamente è vero ora indipendente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio sempre Gesù lo sapete no? lo sai che la giustizia chi è che ci ha insegnato il modo di fare giustizia davanti a Dio è Gesù è Gesù stesso la giustizia di Dio vale a dire 22 la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono infatti non c'è distinzione tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Gesù Cristo io quando leggevo queste cose non è che la farevo pienamente finché finché non ho capito cosa vuol dire rimanere in Cristo tutto quello che noi vediamo di benedizioni per i patti le promesse la protezione tutto è finché noi siamo in Cristo cioè è il posto in cui Dio ci ha messi dice che Dio ci ha liberato dalla potenza delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio quindi noi siamo in Cristo siamo insieme abbiamo la visione ci ha legato lo Spirito Santo cioè siamo rimasti lì dove Dio ci ha posti in Cristo non siamo nel mondo noi siamo non siamo del mondo noi siamo nel mondo ma non del mondo perché quando abbiamo conosciuto Gesù noi siamo di Cristo siamo nel mondo ma non siamo del mondo perché siamo di Cristo quindi quando usciamo nel mondo e siamo del mondo noi perdiamo tutto 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 come gli ha perso il figlio tutto tutto il mondo passa tutto perdiamo in Cristo io sono redento finché rimango fermo perché Gesù ha detto che avrà perseverato fino alla fine sarà salvato non devo perdere quello che Dio mi ha dato non lo devo perdere perché ho un'opportunità noi dici sai ho perduto la vita e c'è un'altra disposizione no questa è l'unica opportunità che Dio ti ha dato in questo mondo Gesù io ti ho preso ti conservo nessuno ti capisce rimani fermo dove stai perché altrimenti perché doveva venire Gesù a prendere la perduta tanto alla fine come dice la chiesa pagana tutti vanno in chiesa tutti vanno al cielo e perché Gesù è venuto a prendere la smarrita che bisogno c'era di ritrovare la perduta vuol dire che la perduta non può stare lì fuori dal gregge la smarrita non può stare fuori dal gregge devono stare tutti dentro in Cristo per questo è venuto Gesù per rimettere a posto le cose io dicevo giù in Calabria mi era preso se dunque uno è in Cristo quindi noi quando siamo in Cristo veramente acquisiamo tutta la giustizia di Dio per intero non c'è difetto nel patto di Dio mi sentite non c'è difetto Angelo non c'è difetto ecco perché siamo giustificati perché non c'è difetto in questo patto non c'è difetto se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura è evidente che noi siamo nel mondo tutti siamo nel mondo dove siamo scusate ma un conto essere nel mondo è di Cristo perché lo spirito cioè stare nel mondo vuol dire io abito io abito c'è un lavoro c'è delle situazioni c'è una parentela sono nel mondo ci vivo ma essere del mondo è un'altra storia cioè vuol dire che io sono influenzato sono condotto sono mosso lo spirito di questo mondo bene lì sei nemico di Dio non so se lo sapevate lo sapete che chi è chi in sé lo spirito del mondo è nemico di Dio per questo Gesù è venuto ti ha tolto da quello spirito ti ha dato il suo spirito per toglierti lì era di dosso ma questo è un altro discorso mi sentite è un miracolo io quando parlo della fede è un miracolo sono stato sono stato redento cioè sono stato riscattato gratuitamente dire io ti faccio grazie figlio finché tu rimani nella mia casa perché la vera libertà è stare nella casa del figlio di Dio non fuori la casa Gesù dice ai farisei io voglio che voi entriate loro dicevano non c'è bisogno non abbiamo bisogno di entrare in questa casa ecco perché erano schiavi 25 Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatore mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in presente in passato al tempo della sua di una pazienza per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché gli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù oh quelli che ha fede dove è dunque il vanto è escluso per quelle leggi delle opere no ma per la legge della fede perché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge Dio è forse soltanto il Dio dei giudei non è anche egli il Dio degli altri popoli viene lì a certo è anche il Dio degli altri popoli perché c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede è l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede annulliamo dunque la legge mediante la fede no di certo anzi confermiamo la legge Salmo 85 10 Salmo 85 10 la giustizia di Dio finché sono in Cristo sono coperto perché ogni volta che arriva la parola nella mia vita la parola sa perché viene per lavarti per santificarti per giustificarti per restaurarti per rimetterti nelle condizioni di stare nella luce pensa a una persona e dice ma io ho fede ma non vive mai il corpo dov'è la sua fede? io ti dico con le mie opere ti mostro la mia fede bontà e verità si sono? bontà e verità si sono? la giustizia e la pace si sono? solo qua vanno insieme vedete i legami la comunione? non c'è giustizia e odio si sono baciate non c'è confusione è fuori che è cambiata l'identità ma in Cristo l'identità è sempre quella una cosa che ho notato e non posso andare oltre una cosa che ho notato nell'ultimo momento è come il mondo si è capovolto nell'ordine il mondo si è capovolto nell'ordine la creazione si è capovolta in quello che era naturale è incredibile perché hanno rigettato la giustizia di Dio per approvarla loro ecco perché vediamo cose strane oggi non posso dirlo pubblicamente si è capovolto l'ordine della creazione si è capovolto completamente ciò che prima Dio aveva messo in ordine ora è capovolto perché c'è l'affermarsi l'affermarsi di che cosa? io devo affermare la giustizia di Dio non la mia le leggi che hanno fatto la giustizia contro Dio lo vediamo oggi oggi esistono cliniche dove ti portano a morire con dolcezza con la cioccolatina e ti addormenti non è la giustizia di Dio eppure il mondo si è giusto perché la vita è mia e faccio quello che voglio disprezzi chi non l'ha potuto avere questo disprezzi quelli che non la vogliono perdere la devono perdere purtroppo per forza mi sentite? bontà e verità si sono incontrate è un incontro che il Signore ha fatto con la nostra vita e ha cambiato il male in bene ha trasformato le tenebre in luce finché siamo in Cristo noi siamo all'interno di tutta la giustizia di Dio siamo protetti in Cristo non sentite quando vi dicono ma non importa lascia stare la chiesa vivete la tua libertà in Cristo dove la vivi? è vero dove la stai vivendo questa libertà? fratelli perché siamo insieme? perché Dio ci ha messi insieme? si è proprio sbagliato Dio? perché ci ha messi insieme? sapete perché ci sono molti cristiani ministri separati? perché hanno rigettato quella giustizia perché se ti tiene a quello che Gesù ha detto è Dio stesso che muove la tua giustizia verso gli altri ci pensa Lui ci pensa Lui mi immagino giusto per strammatizzare il film di Cenerentola no? il cartone animato la sapete la storia no? e lei è morto il papà e chi è subentrato era nascosta da chi aveva una bella casa l'hanno messa nella stanza più buia più brutta più schifosa non mangiava le perle niente è proprio abbandonata completamente però ci insegna questa piccola storia storiella che lei va viene trasformata in un incontro e poi perde questa scarpetta ora pensate che il re metto un editto dice chiunque indosserà la scarpa sarà la re e questa bambina è chiusa all'interno della stanza e dice come fai ora come fai come fai adesso e si vedono le sorelline che vanno le sorellastre le sorelline brutte vanno per mettere i piedoni e un 43 con i piedi 50 è impossibile con la scarpa è impossibile però prima o poi o prima o poi quella scarpa sarà indossata quella scarpa sarà indossata quando Dio ti vuole saltare ti vuole innalzare lui sa come farlo però e noi siamo trovati nella posizione corretta perché Dio ci innalzi dice la parola che chiunque si abbassa e quando fai quello che ti ho detto questa sera dell'emosina il digiuno la preghiera sono posizioni basse ti stai abbassando e la tua carne non trova soddisfazione alcuna perché il digiuno non so chi lo sa ma ti vengono tremila pensieri il deserto del Sara di cibo è qua dentro perché viene martoriata la carne soffre la carne perché la carne non le frega di digiunare chi ne trova vantaggio è lo spirito voi sapete che quando si digiuna lo so perché l'ho praticato io l'ho praticato per dieta digiuno intermittente mi digiunavo 20 22 ore non era per il signore era per me perché ero diventato un po' grosso e mi sono diminuito quello che ho imparato nel digiuno è che è un'arma straordinaria c'è un effetto incredibile ti mette in ordine tutto il digiuno riordina interamente qua c'è anche che ne sa più di me probabilmente Massima lei sa queste cose lei è infermiera e le sa il digiuno riordina interamente tiri a zero ti resetta tutto come si chiama tutto tutto l'apparato ti resetta come se tu vieni completamente ripristinato e posso dire che è vero mentre facevo questo tipo di digiuno intermittente per dieta e vi dico che era qualcosa di incredibile avevo più forza mentre digiunavo che quando invece mangiavo perché lì i zuccheri mi toglievano la forza ora io mi immagino che mentre sto pregando perché quando tu preghi devi solamente aspettare ed è dura quando devi aspettare invece noi vogliamo le cose veloci quando tu stai facendo del bene con quel poco che hai molte volte ho fatto fare pace con persone sapete come? poi c'è sorella piglia un pensierino e poi gliela dare a quell'altra sorella senza farti vedere vai prenditela e daglielo ma che faccio daglielo perché ho imparato che doni aprono i cuori degli uomini sapete che è successo? il miracolo la sorella che prima era entrata in un ufficio a dire tante cose fratello non vi posso dire cosa dopo dieci minuti che la persona ha fatto questo gesto è venuta ma come ha fatto a potergli male? ma che bella persona ha fatto un miracolo un miracolo o sbaglio? fai il bene fai trasforma non mi ricordo il male con il bene quella stella era trasformata dice mincega scusa poco fa mi hai detto che era c'era un elenco che non finiva mai dove bene non ce n'era a un certo punto dopo quel dono ve lo dico per insegnarvi quel dono fatto di nascosto nel segreto ve lo dico per insegnarvi perché voi potete imparare cosa vuol dire fare giustizia di Dio perché per fare quel movimento ti devi umiliare e il pastore il vostro pastore questo fa vai fai qualcosa che tu non vorresti dicendo non lo posso fare ma gliela portare in quel momento tutto diventa luce mi ricordo che più di qualcuno è venuto a dirmi oh è un miracolo che è successo all'istante ma che bella persona ma io pensavo che era così invece no fra io lo vedo guarda tu me l'hai detto non te l'ho detto io un dono ha cambiato tutto un dono non un talentone un dono mi porto un assegno di 10.000 euro e là penso che risorgono pure i morti o quello però un dono una sciocchezza guarda questo è un pensierino per dirti che toglie bene e ti chiedo scusa mi dispiace mi insega gli scioglie il cuore proprio perché è qualcosa che nessuno si aspetterebbe mai il nemico si aspettava che Gesù della croce lo perdonava non se l'aspettava mai si aspettavano i nemici giù dalla croce che un uomo versava il sangue per loro chi se lo aspettava eppure Gesù è stato umiliato su quella croce l'ha presa tutta l'umiliazione oggi noi siamo qui perché Dio l'ha analizzato lì sopra di ogni nome lo ha sovranamente analzato quando noi facciamo quelle cose noi stiamo affrontando un tempo di umiliazione dove la tua carne non fa quello che dovrebbe fare ben si tu sei nello spirito dipendi da Dio ci pensa il Signore Fabrizio vieni che ora prima apre il tuo compleanno ci pensa il Signore quando c'è qualcosa che non vi piace fate fare lo spirito santo imparate dalla giustizia di Dio gli iscrivi e i farisei erano ipocriti loro dovevano mostrarsi alla gente sapete cosa dicevano gli iscrivi a farisei alzatevi e chiudo guarda e li corrono tutti dietro loro amavano essere corsi dietro li corrono tutti dietro non dicevano però li guarisce tutti quanti non dicevano questo qua si però le suscitano guarite le broche no no li corrono tutti dietro hanno perso la fama hanno perso la fama Gesù che ne fregava della fama lui che è il regno dei cieli che ne fregava ma l'uomo che era abituato all'ipocrisia guardava guarda come li corrono dietro quanta gente wow minze che erano gelosi ma non hanno visto il proposito di Gesù verso quella gente disperata perché allora l'ipocrisia non ha fatto nessun bene a quella gente ma Gesù con la giustizia di Dio ha colmato gli affamati ha raddrizzato gli storpi ha risuscitato i morti ha fatto bene benedizioni se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove poi Paolo dice altresì se prima abbiamo conosciuto Gesù da un punto di vista umano ora però non lo conosciamo più così chi è che conosce Gesù da un punto di vista umano quelli che fanno le cose perché gli altri li vedano quando tu guardi Gesù da un punto di vista spirituale tutto diventa spazzatura voglio ringraziarti padre intanto vogliamo alzare le mani perché abbiamo Fabrizio in mezzo a noi voglio benedire il suo compleanno i suoi giorni grazie signore per Fabrizio benedicilo signore sia la tua benedizione sulla sua vita ti prego padre ravvivalo nello spirito signore rialzalo nello spirito signore rialzalo tuo signore soffia nel suo spirito signore accendilo nello spirito signore perché torni a servire a guardare te signore nel nome di Gesù Spirito Santo grazie facciamo un canto Elia ferito 해�ruzano l'um 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 Grazie a tutti.